In questo nuovo video sui 101 film da salvare della rete degli spettatori vi voglio parlare di un film che ha avuto un percorso critico, una fortuna critica piuttosto singolare, perché è uno di quei film veramente da salvare, ma da salvare innanzitutto nella memoria. Parlo di Cielo sulla palude, un film di Augusto Genina del 1949, che al momento dell'uscita ebbe un grande successo, una grande attenzione critica. Poi questa attenzione sfumò finì nel dimenticatoio finché tra gli anni 70 e gli anni 80 il lavoro di critici come Sergio Germani riportò questo film e molte delle opere di Genina e non solo, di tutto quel cinema che aveva preceduto il neorealismo, che aveva perso il treno del neorealismo e che la critica politicizzata degli anni 50 aveva quindi rimosso in qualche modo, lo riportò all'attenzione. Cielo sulla palude è anche facile capire perché poi negli anni 50 un film del genere venne dimenticato, cioè si lavorò in qualche modo per dimenticarlo, perché è un film sulla vita di Maria Goretti, è un film come dire di ispirazione cattolica, quasi di commissione. Genina come dire divenne famoso perché tra gli anni 30 e gli anni 40 divesse vari film di propaganda fascista o comunque molto vicini al regime di Mussolini. Nel diciamo dal 41-42 quindi quando la guerra comincia a farsi brutta e quando la posizione del governo Mussolini soprattutto negli quali della guerra cominciò a divenire brutta, Genina si fermò. Ritornò al lavoro, ripropò, come dire, ritrovò il gusto della macchina da presa cambiando ovviamente stile e idee cinematografiche in qualche modo, idee politiche più che cinematografiche, quando gli venne suggerito di realizzare un film che potesse essere lanciato in concomitanza con il Giubileo, con l'anno santo del 1950 e quindi realizzò questo film su Maria Goretti, sulla sua vita, sul suo martirio in qualche modo che poi la portò a diventare beata e santa. In realtà, come dice la voce fuoricampo all'inizio, non è un film sulla vita di Maria Goretti, non è una biografia e non è una geografia nel senso proprio, come dire, religioso del termine, non è la vita di una santa, è la vita delle persone, la vita delle povere persone che all'inizio del ventesimo secolo lavoravano nelle parudi pontine molto prima della bonificazione fascista. E quindi è un film che in qualche modo va perlomeno all'apparenza sulla scena del neorealismo, perché di fatto racconta la vita di questi contadini che errano, che vagabondano da una terra all'altra in cerca di una casa e di un lavoro e che a un certo punto si sistemano nella magione di un conte che ha tutta una serie di terreni che vanno bonificati e che vanno poi seminati. In realtà il film, soprattutto tutta la prima parte, racconta questo, con un senso quasi tra epica ed elegia, con un senso dei luoghi, dell'atmosfera, del clima fortissimo, che non è assoluto, non è quello di un film, come dire, di un film cattolico, di un film pensato per le parrocchie, per il circuito degli oratori, come potrebbe essere, come sarà qualche anno dopo Marcellino Panebbino. Questo è un film durissimo, un film angosciante ed è un film angosciante soprattutto per l'ambiente che racconta, per il contesto che racconta. La scena del neorealismo è seguita anche dal fatto che i protagonisti, gli attori, in un certo senso, del film non sono attori, cioè sono i veri contadini delle campagne romane, delle parodi romane, gente che davvero negli anni 20 e 30 ha partecipato alla bonifica di tutta l'area pontina, per intenderci. Il film, come dire, le racconta in maniera estremamente spontanea, estremamente vitale, quindi lavorando proprio su quella che era anche il dialetto, anche il suono delle voci, il suono musicale del dialetto pontino e lavorando sugli ambienti. La grande forza del film è nella fotografia di Aldo, Aldo, che fu uno dei grandi direttori della fotografia poi del neorealismo, ed è una fotografia che appunto sembra entrare nella realtà, uscire fuori, quasi plasmarsi dalla realtà, ma allo stesso tempo reinventarsi secondo dei modelli che sembrano quelli delle grandi avanguardie, dell'avanguardia russa, ma anche di un certo cinema, come dire, documentario di quegli anni, penso a Flyerty soprattutto, che nel lavoro estetico sull'ambiente riusciva a trarre, come dire, già un confine, un cinema limite tra rappresentazione, tra esaltazione artistica ed estetica e documentario. E il film, piano piano, come dire, racconta questo ambiente, questo mondo, ed è un film corale, perché racconta tutti i personaggi che ruotano intorno a questa magione, e poi piano piano va a concentrarsi, va a chiudersi, una struttura quasi a imbuto, che opprime proprio, racconta questo senso di oppressione intorno alla figura della protagonista, Maria Goretti. Tutto il percorso che porta poi alla conoscenza con il figlio del fattore che lavora per il conte e al rapporto tra loro due è sempre più opprimente. Il film è anche molto interessante ed è quindi, come dire, originale rispetto alla commissione, proprio per il modo in cui mette in scena Dio, la presenza di Dio, il modo in cui questi contatini vivono la religione, vivono il rapporto con Dio, e anche il suo simbolismo. Dio non è un aspetto, Dio che risuona sempre nelle parole di Maria, che è, come dire, già, già da ragazzina sulla via della santità, perché pensa continuamente all'estasi religiosa, in un certo senso, al dover essere pura agli occhi di Dio, è figlia del timore di Dio, è figlia di una sessuofobia legata al timore di Dio. E il paradosso è che questo timore e questa sessuofobia poi la renderanno, come dire, la vittima perfetta per quello che sarà il finale. Maria fu ammazzata dal figlio del fattore perché non voleva stare alle sue voglie sessuali, per evitare di essere stuprata, mettiamo così, si fa ammazzare. Però, come dire, Dio non è una speranza, è una consolazione, la consolazione di una famiglia di poveracci e di una ragazza che già vive su di sé il senso di essere vittima, ed è un senso che non è un senso, come dire, del destino, ma non è una predestinazione, è un senso profondamente iscritto nel suo contesto sociale, sia nel contesto dei poveri, della povertà, anche quella dei contadini, ma sia nel contesto di una donna, di una società, come dire, in cui la violenza maschile e patriarcale è l'unico segno tangibile del potere, non essendoci il denaro, c'è la violenza. E questa, come dire, a questo si sposa un lavoro sulla simbologia estremamente affascinante, perché? Perché una simbologia del tutto stilistica, estetica, ha a che fare con gli ambienti e con il modo di riprenderli. Il confronto, soprattutto lo sconto, tra il mare, che è il sogno di Maria, che è la prima volta che vede il mare, come dire, è uno dei momenti più tenili del film, che viene accompagnata in spiaggia vicino a Nettuno dal figlio del fattore. Il mare che è bello come il paradiso, esattamente le sue parole, e la palude, che è dove vivono, e che è l'inferno. Quando lei va a scuola per poter prendere la comunione, e quindi per poter avere una minima educazione religiosa, tale per potersi poi comunicare, attraverserà questa palude, che è l'inferno, che è l'ostige, e che è ripresa con un fortissimo contrasto di bianco e nero, proprio a indicarne la natura infernale, la natura malvagia. Nel confronto tra il mare e il, quindi tra l'inferno e il paradiso, tra il mare e la palude, si arriva, come dire, si intromette in un accenno ironico il peccato. In una scena, mentre lei sta lavorando ai campi, non riesce ad uccidere una serpe che stava per morderla, e un contattino gli dice, guarda che se non l'ammazzi lei poi si vendicherà, se tu non l'ammazzi lei, lei ammazza te. E Maria si ferma un attimo e dice, ammazzata da una serpe, che è il peccato, ma che è il peccato che lei sceglie di reagire, a cui sceglie di reagire. Fino al finale, proprio come dire, il finale delle ultime sequenze, le ultime inquadrature, è un film tutt'altro appunto che a geografico. Il modo in cui viene raccontato il dramma è di una tensione, di un ritmo calmo, implacabile, glaciale, che si oppone all'estate, all'uglio, all'uglio torrido. Il freniere delle cicale che è l'unico commento di sottofondo all'omicidio che viene commesso su Maria. Poi il finale, come dire, è quello che paga pegno alla committenza. Però il film ha tutto un impianto estetico e atmosferico che trascende, appunto, il suo essere, un film di neorealismo cattolico, come venne poi raccontato, e lo trascende creando, come dire, una fortissima atmosfera e una fortissima comunicazione con lo spettatore, soprattutto lo spettatore attuale, che si ritrova coinvolto in un fosco dramma che attrattia anche le stimmate del melodramma e che riesce a comunicare proprio per la forza estetica che diventa, nonostante quello che scrisse Rondolino in un catalogo del cinema italiano di quegli anni, che diventa anche forza etica, anche riflessione sotterranea su un certo modo di vivere la religione all'interno di una certa cultura. È uno dei film da salvare perché, come dire, in un momento di stallo del neorealismo, che era appunto quello della fine degli anni 40, prima che il neorealismo diventi qualcos'altro, diventi la commedia all'italiana, c'è una possibilità, c'è un modo di raccontare il mondo che è un modo, sì, che ha, come dire, una precisa via ideologica, ma ha anche una grande forza stilistica e poetica. Ed è un film che lasciò turbati anche, come dire, i committenti stessi. Quando la storia racconta che quando il Papa vide il film e rimase molto turbato, non ebbe, come dire, quel modo di saltazione religiosa che pensava un film del genere potesse dare, ne rimase molto turbato e quando accolse in Vaticano Ines Orsini, le consigliò di lasciare quella sua interpretazione come unica interpretazione della sua vita, cosa che poi sostanzialmente sarà. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che ci sarete anche la prossima settimana per parlare di un altro dei 101 film da salvare della rete degli spettacoli. Ciao a tutti.